Il 4 aprile 2023, una data storica per la Finlandia, il paese scandinavo entra ufficialmente nella NATO come trentunesimo paese alleato e la sua bandiera verrà essata per la prima volta nella sede, un ingresso reso possibile grazie al voto finale della Turchia, che già discorso aveva ratificato l'adesione, dopo aver osteggiato per vari motivi e diversi mesi quest'operazione. Il segretario Stoltenberg confide di avere presto il sì di Ankara anche per la Svezia, Stoccolmo ha mantenuto gli impegni contenuti nel memorandum firmato con Finlandia e Turchia al Summit di Madrid.